Sapevi che puoi meditare dovunque tu sia? Si chiama meditazione informale perché è diversa da appunto la meditazione formale. Mentre nella meditazione formale per esempio ti siedi e focalizzi la tua attenzione sul respiro o sul corpo, nella meditazione informale fai una cosa diversa. Diciamo per esempio che stai camminando puoi porre l'attenzione sulla sensazione dei tuoi piedi mentre cammini. Oppure per esempio stai aspettando in fila in qualche posto puoi prenderti un secondo e invece di rimanere nei tuoi pensieri puoi focalizzare la tua attenzione sui suoni attorno a te. O per esempio stai lavando i piatti e puoi focalizzare la tua attenzione sulle sensazioni delle tue mani. Se ti interessa meditare abbiamo creato un'app gratuita per farlo. Si chiama Clarity e la puoi trovare sull'App Store, sul Google Play Store o anche trovi il link in descrizione.